Benvenuti a Reptech, la tecnologia di ogni giorno sotto lo sguardo di Repubblica. La tecnologia, sì, la tecnologia che fa continuamente progressi. Progressi che però, visto l'enorme volume di prodotti che ogni giorno arrivano sul mercato, non può che essere incrementale. Ovvero, una generazione di prodotti che arriva fa un passo avanti, un passo e mezzo, ma non di più generalmente rispetto alla generazione precedente. Ci sono però dei prodotti che ogni tanto, ogni X numero di anni, rompono questo schema. Uno di questi è il Samsung Galaxy Fold. Uno smartphone, sì, ma in realtà non solo uno smartphone, perché è un doppio prodotto. Oltre allo smartphone c'è il tablet. È un cellulare, sicuramente, a meno a vederlo chiuso, ma una volta aperto, mostra il suo display da 7 pollici e 3 e diventa un tablet, qualcosa con cui si interagisce in maniera tradizionalmente legata a schermi più grandi. Il Galaxy Fold è un prodotto su cui Samsung ha lavorato molto, introducendo una prima generazione, poi ritirata, perché c'erano dei piccoli problemi legati al secondo schermo, ma adesso arriva sul mercato in una versione riveduta e corretta che ha eliminato quei piccoli difettucci di progettazione dell'inizio. Che cos'è il Galaxy Fold? Beh, l'abbiamo detto, è uno smartphone. Sicuramente, a vederlo così, chiuso, non è molto diverso, al di là delle dimensioni un pochino più allungate e meno larghe, insomma, meno definite in larghezza rispetto a uno smartphone normale. E fuori ha un display con cui si interagisce esattamente come facciamo con ogni dispositivo Android, e nello specifico con ogni dispositivo Android Samsung, perché l'interfaccia è chiaramente quella proprietaria della casa. Ma una volta aperto, il Fold dimostra tutte le sue caratteristiche. Dentro il Fold ci sono ovviamente tutti i componenti che possiamo trovare in un top di gamma, quindi abbiamo uno Snapdragon 855 come system on chip, ovvero come CPU principale, le fotocamere sono al top di quello che Samsung ha finora proposto sulla sua fascia alta, ma soprattutto abbiamo questo display, che non è in vetro ovviamente, ma per potersi piegare, è in materiale plastico, che si comporta però esattamente come se fosse appunto di vetro, e in cui la linea di unione tra le due parti dello schermo sostanzialmente risulta invisibile. Ed è questa in realtà la vera magia di questo dispositivo Samsung. Dentro troviamo uno schermo Super AMOLED, da una risoluzione importante, sono 2152 pixel per 1536, la proporzione, come possiamo vederla, è tendente al quadrato, insomma è un 4,2 terzi, è più quadrato che rettangolare, ma dai nostri test l'abbiamo insomma portato in giro per un po' e l'abbiamo sottoposto ad ogni tipo di maltrattamento possibile, è un display che risulta ideale per la lettura, sia di giornali, sia di siti, che la frequentazione, appunto, l'interazione con i social. Questo formato quadrato sta comodamente in una mano e non è, come dire, impegnativo come peso e come dimensioni quanto può essere un tablet e non è nemmeno stretto oppure difficile da leggere come uno smartphone. Qualche caratteristica tecnica del fold, dietro ci sono ovviamente, come si vede, tre fotocamere, ce n'è una ultra grandangolare da 16 megapixel, ce n'è un'altra wide da 12 megapixel e una da telefoto, quindi con lo zoom da 12 megapixel. Davanti abbiamo una 10 megapixel, il processore, l'abbiamo detto, è uno Snapdragon 855, dentro ci sono 12 giga di RAM e quindi una dotazione assolutamente overkill, oltre quello che può servire su uno smartphone, ma poi si sa, alla fine la memoria non basta mai, e 512 giga di storage. Il prezzo, oh, il prezzo è la nota dolente, ovviamente è un prodotto che introduce una nuova generazione di dispositivi e poco non può costare. Si trova a 2.050 euro, anche se girando su internet, ovviamente sui soliti siti di e-commerce, eccetera, si riesce a spuntare qualche affare, ma insomma dai 2.000 euro più o meno non si scappa. Naturalmente la questione più importante legata al Galaxy Fold è appunto lo schermo. Quanto può resistere aprendolo e chiudendolo continuamente, come stiamo facendo noi ininterrottamente da giorni? Beh, insomma, Samsung è molto fiduciosa sul fatto che questo, pur essendo il primo dispositivo di una famiglia che sicuramente crescerà, possa durare sostanzialmente quanto un normale smartphone. In realtà noi non abbiamo verificato nessun tipo di malfunzionamento legato al display e né un disallineamento delle due metà che lo compongono. Insomma, il Galaxy Fold è uno strumento con cui si può fare tutto quello che si fa con uno smartphone e tutto quello che si fa con un tablet in un unico dispositivo pieghevole. Come una volta piegavamo il giornale, oggi possiamo quindi piegare il sito. Ecco qui. Cosa ci è piaciuto? Beh, insomma, ve l'abbiamo detto, ci sono delle cose che potevano essere sistemate, ad esempio manca un piccolo supportino con cui appoggiare il fold in modalità aperta al tavolo, ma per il resto, insomma, si tratta di un dispositivo i cui pregi superano abbondantemente le piccole mancanze tipiche di una prima generazione.